Nei miei 40 anni di servizio ho lavorato con persone fantastiche e qui ce n'è una speciale, mia moglie, Lady Sandra Abbott. Mi preparo per la nostra pensione da 35 anni. Sandra? Ma cosa ci fai qui? Maika ha un amante. Charlie, questa è la mia sorellina Sandra. È un vero piacere. Lady Abbott. Lady Abbott. Magari questa è l'occasione per imparare a conoscervi. Di nuovo, no? Ecco qua. Guarda che le ho già viste. In queste condizioni non le hai viste. Sembro così felice. Lo eri. Io l'ho sempre trovato prepotente, arrogante e presuntuoso. Classica sindrome dell'uomo piccolo. Mio marito non ha il pene piccolo. Perché non vieni con me alla lezione di ballo? Magari ti tira su. Non mi avevi detto che c'era anche lui? Mi sono sposata cinque volte. L'ultimo è finito per motivi religiosi. Lui si credeva a Dio. Non lo era. Io non sono come te, Biff. Non riesco proprio ad aprirmi. Coraggio, vieni a provare. Serve un atto di fede. Un salto nel vuoto. Trenta minuti e sono pronto a partire. E io ti ci faccio arrivare in dieci. Gerald? Tu non hai paura di morire? Una cosa è avere paura di morire, Sandra. E una completamente diversa è avere paura di vivere. L'ultima paga da bere. Io lo so quanto può disorientare quando uno si ritrova solo. E tu il migliore. Io lo spero. Dimmi che ti sei divertita. Sì, molto. Questa potrebbe essere la cosa migliore che ti sia mai capitata. Non ti puoi scegliere la famiglia, ma ti puoi scegliere gli amici. Beh, ho ritrovato mia sorella. Bellissima. Grazie. Parlavo della vista. No, no, sto scherzando.